Provengono da 18 nazioni estere e da 20 regioni italiane, gli oltre 200 allievi iscritti alla settima edizione dell'Imola Summer Piano Academy & Festival. Gli studenti parteciperanno dal 16 al 30 luglio a due settimane di alta formazione musicale e assisteranno, assieme al pubblico appassionato, a serate di concerti che porteranno in città i migliori talenti da tutto il mondo. Provengono un po' da tutto il mondo, Cina, Giappone, Australia, eccetera, e vedere tanti ragazzi che si avvicinano alla nostra Accademia, perché sono oltre 200-205, che ormai la città si è accorta dopo 27 anni che questo può diventare veramente un festival molto importante. Io con presunzione dico Imola e la Salisburgo dell'Emilia Romagna. Ho avuto l'onore di essere qui a questo primo evento, il grande maestro Franco Scala l'ho sempre seguito con molta passione, sono molto orgogliosa e deve essere un orgoglio per tutti gli imolesi. La nostra Accademia vengono pianiste di prodigi da tutto il mondo per studiare qui, è paragonata, lo sappiamo tutti, anche alla Giulia di fama mondiale, quindi è un grande orgoglio essere qui al primo evento, ce ne saranno altri fino al 30 di luglio in città, quindi voglio già invitare tutti i concittadini e le concittadine a partecipare, anche perché gli eventi sono gratuiti.